Gelo fra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. In grata, dice lui, non gli devo nulla, dice lei. Se Giorgia continua così, rischia di isolarsi e fare la fine della Le Pen. Silvio Berlusconi non avrebbe ancora digerito le frasi pronunciate su di lui da Giorgia Meloni il 31 gennaio scorso. Ospite della trasmissione Quarta Repubblica su Rete 4, in particolare il passaggio a Berlusconi non gli devo nulla. Durante il pranzo di oggi ad Arcore con lo Stato Maggiore di Forza Italia, riferiscono fonti azzurre, il Cava avrebbe espresso la sua delusione per i comportamenti, anche recenti, della leader di FDI. In particolare, avrebbe prima ricordato quando nel 2008 fu determinante il suo contributo perché lei diventasse ministro della gioventù del Berlusconi Quater per poi rammentare ai presenti tutti i gesti di generosità compiuti verso la presidente di FDI. Negli ultimi anni, più urda ultimo, con regali a Natale, gesti, avrebbe detto l'ex premier, non sempre ricambiati. Da qui la conclusione che così facendo Meloni, rischia di entrare in un cono d'ombra e di ridursi a svolgere il ruolo che Marine Le Pen ha in Francia senza andare oltre questi confini. Renzi a carisma, ci sa fare, ma il suo problema sono i consensi. Raccontano che durante il pranzo di Arcore di oggi con i vertici di Forza Italia, apprende l'Ancronos, Silvio Berlusconi abbia parlato anche delle grandi manovre al centro di questi giorni, a cominciare dal ruolo di Matteo Renzi. Pur riconoscendo capacità politiche e dialettiche all'ex rottamatore, il Cava avrebbe sottolineato che all'ex premier, almeno in questo momento, mancano i voti, visto che secondo gli ultimi sondaggi Italia Viva non supera il 3%.